Per la zootecnia valtellinese il 2018 è cominciato nel migliore dei modi, con importanti riconoscimenti ai nostri allevatori in occasione della cinquantesima mostra nazionale del libro genealogico della razza bruna, che a Verona ha attributato premi prestigiosi ai capi bovini delle nostre aziende. Una conferma, rimarca il direttore dell'Associazione Provinciale Allevatori Gian Mario Tramanzoli, del grande lavoro di qualità che gli operatori del nostro territorio riescono a garantire. Intanto l'APA ha ufficializzato il calendario delle manifestazioni zootecniche dell'anno in provincia. Sono in tutto 18, di cui 10 bovine, 7 ovicaprine e una equina, la classica mostra interregionale del cavallo avelinese giunta all'82esima edizione, che si svolgerà a somaggio il 27-28 ottobre. Nel settore ovicaprino gli appuntamenti clou sono la mostra interprovinciale della capra aerobica della Valgerola, a Gerola Alta il 13 maggio, e il 2 dicembre, a chiusura dell'intero calendario espositivo zootecnico del 2018, a Grosio, la mostra provinciale della capra frisa valtellinese o frontalasca. Quanto al settore bovino, l'evento più atteso della prima parte dell'anno sarà l'8 aprile a Colorina, dove unitamente alla mostra mandamentale si terrà anche la mostra provinciale delle vacche da latte di Razza Bruna. Nel 2018 anche Delebio ha voluto riprendere un ruolo di primo piano nel panorama zootecnico valtellinese, con un doppio appuntamento a ottobre, il 13 la mostra provinciale del bestiame giovane di Razza Bruna, cui farà seguito una settimana dopo l'esposizione delle capre e delle razze aerobica sane ne camosciata. Abbiamo voluto proporre anche quest'anno un calendario ricco, coordinato con eventi di livello superiore fuori provincia, a cui spesso anche i nostri allevatori sono presenti, conclude Tramanzoli, perché queste giornate rappresentano un momento di valorizzazione del lavoro, della cultura e delle tradizioni del territorio, che stanno a cuore ai soci. L'allevatore è in grado di far sopravvivere nella sua integrità un territorio e le sue tradizioni, garantendo eccellenze assolute anche in riferimento alla qualità e alla sicurezza alimentare. Per questo è certamente importante garantire la continuità di queste manifestazioni.